E' stata organizzata a Campobasso una giornata sull'ambiente nell'ambito del convegno Science for the Planet. Durante i lavori l'ingegner Pierno ha relazionato sullo studio preliminare di caratterizzazione del PM10 nella piana di Venafro. Illustrati inoltre i risultati sulla qualità dell'aria, redatto da Ispra, Arpa Molise ed Arpa Emilia Romagna. E' stata anche evidenziata la carenza delle valutazioni meteoclimatiche per mancanza di strumentazione. A conclusione dei lavori la procura ha ribadito il proprio impegno nel difendere l'ambiente e la salute. Mentre il prefetto Tancredi ha assicurato che l'istituzione da lei rappresentata sarà sempre al fianco dei cittadini. Anche le mamme per la salute hanno partecipato ai lavori avanzando alcune proposte giudicate non più rinviabili. In primis il divieto di insediamento nella valle del Volturno di qualsiasi nuova fonte inquinante. L'associazione ha inoltre chiesto l'incrocio dei dati disponibili, come i vari piani di monitoraggio, redatti a partire dal 2010 e l'individuazione delle principali sorgenti di emissione. Per le mamme è necessaria l'adozione di un piano di miglioramento della qualità dell'aria che imponga nell'immediato la drastica riduzione delle emissioni, quantomeno delle sorgenti già identificate, ed il potenziamento dei sistemi di controllo e rilevamento della qualità dell'aria. Infine l'associazione Mamme per la salute ha chiesto alle autorità intervenute una serie di indagini sulla presenza di eventuale diossina nel territorio e l'attivazione effettiva e permanente del registro tumori, oltre alla dotazione di impianti per il rilevamento meteoclimatico.